Non servo a te da tenere, si vuoi, io so contente perdere, perché voglio che torna a vivere. Grazie. Allora, adesso è la volta di un altro artista, un altro cantante, si prepari, Fabrizio Charenza, e canterà un solo brano, credo, vero? Una sola canzone. Te lascio questo che è quello migliore, grazie. Buonasera. Un applauso, dai. Grazie a tutti. Passi in parola, mi ricordo che tu sei male, ma chissà perché, sento nel petto un dolore che è più forte me. Ora mi è chiaro il messaggio del nostro Dio, fa meno male una doccia girata che mudo adesso e via. Ma se potessi parlarmi con un occhio a tutti, io nel te serò, sarò il sole dal petto un dolore che è più forte me. Se mi cercherei, io ce ne sono. Quando ci conosciamo, per chi non ti conoscesse, ti sta conoscendo, quindi, e poi sei anche bravo tra le altre cose, quindi molti complimenti. Grazie a te. Allora io adesso, grazie, grazie. Io adesso vorrei di nuovo qui sul palco, Davide Arezzi, ma però per imbroverarlo, per imbroverarlo, sì, sì, Davide. Tu poco anzi mi hai detto, prima che iniziasse lo spettacolo. Cos'è successo? È successo che tu sei un imbroglione, mi hai imbrogliato. Un imbroglione. Io te l'ho detto che ti dedicavo queste due canzoni, però era giusto dare spazio agli altri cantanti e poi eventualmente rifarle. Sei assolto, vabbè, facciamo vedere che ti sei confessato. Ti assolvo? Allora mi dico che queste canzone a me, la mia famiglia e a tutti quanti ci mancherebbe. Succaro, la famiglia a zuccaro. Con un grosso applauso, dai, facciamoci sentire. Grazie, grazie. Allora ti assolto. Una grande serata. Sei perdonato per questa volta, non lo fai più. Ah, un applauso al nostro Francesco Mirabella, come no? Per l'alfonia. Tanto ne dobbiamo dedicare a tutti quanti, quindi. Con le mani dai tutti quanti, facciamoci sentire. Stai a sentire, ti prego, ti avviso, soltanto la che renda a te. Quello di te, se ne frega, ci prova con tutte le stanno a sentire. Tu non ti auguro che mi è te. Sei troppo in bagno, da dove c'è lì. Ma che stai innamorando, non vedi in faccia, non da guidare. Lascialo, credimi, ti tosso del male. Giuro che, io so che sono la sua pena. Le sue frasi d'amore, i messaggi la sera, Sono trucchi provati, Da te vanno a dare. Lui di te, Non ce l'è imburtato mai, do giuro. Sono tu, ma c'è lì. Sono tu, ma c'è lì. Yeah, sono tu, ma c'è lì. Grazie, grazie di vero cuore. Io credo che lo spazio... Allora, guarda, sei stato perdonato da me perché non hai cantato... Ciao Francesco! Adesso chiamerò alla tua ragazza, Gli dirò di potete avere la polpa perché sei stato bravo, Sei stato all'altezza, E un grande applauso perché se lo vede... E allora chiamala signora Pinella, dai. La signora Pinella? Chiamala signora Pinella. No, non lo posso fare, lo farei. Io vi ringrazio di nuovo per questo spazio, diciamo, prolungato. Ringrazio ancora Salvo Celestiano, Alessio Valenti, Un applauso a tutti gli artisti che si sibrano questa sera. Un ringraziamento al pubblico nostro e agli organizzatori. Un ringraziamento più grande al pubblico, agli organizzatori, A tutti quanti, alla presentatrice, al presentatore, alla valletta, Alla nostra valletta Sabrina. Al fotografo, al video... A tutti. A tutti quanti. Facciamo un grosso applauso. A tutti quanti. E così, con un applauso ringraziamo tutti. Allora, lei mi devi dare un numero. Va bene? Io vi ringrazio, un bacio, grazie. Ciao, un bacio a te. Ciao, un bacio a te. Allora, no, ma guarda che ci amo veramente. Allora, adesso è la volta di un altro nostro amico, cantante. Francesco Comis, che ci farà ascoltare? Tre brani. Tre brani, i suoi. Ok, Francesco, dai, 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 quello lui, che è per cantare. Ciao Francesco, ti aspettavamo con ansia, finalmente sei arrivato. Sappiamo che con l'aereo c'è un po' di difficoltà, Roma, Catania, tutte le stesse storie qua. Sei arrivato puntuale, grazie, faccia ascoltare le tue canzoni. Va bene. Che tra le altre cose, credo che sia un'occasione che scrivi tu? Sì, sono scritto da me. Sono due. Sì, adesso c'è il mio primo album. Perfettamente. Fra un... Otto giorni. Ci sarà il cd in circolazione. Sì, sono in circolazione e... Ti faccio ascoltare qualcosa di... No, anticipa quello che poi ascolteremo nel tuo cd. Va bene. Ok? A te il nostro pubblico. Grazie. 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 Grazie a tutti. Vengo a te trovare, con la felicità, non stiamo bene insieme, amore mio, torniamo insieme a noi. Io sono un lusso e lontano a voi, con l'augurio ad alzarti in ladrature, mi ha lasciato un grande vuoto dentro me, fin dei sogni miei, ci stai io sempre tu. Da quella sera che sei andata via, quando ammalimpunia. Bene, grazie. Vedi la voce, sì c'è. Allora, no, no, volevo approfittare per così qualche minutino per fare ancora dei ringraziamenti. Sì, sono un po' di ragazze di campo. Eh sì, allora io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Io ringrazio tutti voi, ringrazio la famiglia Brando nuovamente, tutti gli sponsor e tutti gli amici che sono qui in biazza. Salute un bellissimo amico, Cristi, Nicurino, Nicurino, non so come si chiama, di conto è sempre il nome. Crisane, Crisane. Signori, a voi, Alessio Valenti, che ci lascia, grazie, grazie, grazie. E adesso da un grande artista passiamo a un altro grande artista. Diciamo che un pochettino quello che, un po' la prima donna, come si dice in teatro, la persona che porterà avanti il resto della serata, canterà tante canzoni. E quindi adesso noi accogliamo con un grande applauso, un grande amico, un grande cantante. Signora, a voi, Salvo Celestiano. Grazie. E quante canzoni canterà? Non lo sappiamo, giusto? Miss, è la mia miss questa sera. Canterà tante canzoni. Quindi vai con la base, maestro, il nostro amico, Salvo Celestiano. Sì, prova, su con le mani, dai, divertiamoci, partirello. E portare pagina, non è stato facile, ma in amore già si sa, che è molto difficile. Tu con tempo capirai, mi tu sbaglio è già lo so. Mi ricordo è l'unico, è tu sì, va piaccami, io lo so che mi e poi bene, mi voglio tanto a te. Per un giorno ti hanno preso, è portato via da me. Il nostro amico è il nostro amico, è il nostro amico, è il nostro amico. E il nostro amico è il nostro amico, è il nostro amico, è il nostro amico. E il nostro amico è il nostro amico, è il nostro amico, è il nostro amico, è il nostro amico. Per un giorno ti hanno preso, è il nostro amico, è quello che c'è il nostro amico. Su, su, su Buonanotte, un applauso a Celestiano Grazie a tutti Per questa serata E per quanto ci riguarda il prossimo anno Chiamateci e noi saremmo qui Il prossimo anno io volevo accennare Che insieme a Salvo Celestiano Stiamo cercando di organizzare Il festival della canzone napoletana Per il prossimo anno? Allora lo presento io Certo Allora abbiamo questo appuntamento Il prossimo anno se Salvo Celestiano ci riesce Se ci riesce Chiamate chi volete Ci riusciamo Grazie Buonanotte a tutti Allora la prossima Grazie Buonanotte a tutti Maestro Questo appuntamento Perché Che cerco mai Che voglio mai Più del successo Perché Mi voto io Non ho nottato Che per questo Io lo hai Lo scelta già Allora la prossima Allora la prossima